Salve ragazzi e bentornati sul canale signori, siamo su Among Us, il gioco fantastico del momento a cui ci piace un sacco giocare e oggi farò una partita in solitudine, cioè non siamo in live quindi registo una partita, vediamo un po' cosa ne viene fuori speriamo di essere l'intruso e speriamo di vincere come intruso perché non è ancora mai successo quindi andiamo a farci una bella partita online, clicchiamo qui e andiamo a cercare un server pubblico vediamo un po' se ne troviamo uno velocemente, questo non era, ok signori ci siamo, ci siamo, serve pubblico siamo tutti quanti qua, perfetto, io sono, dove sto io? Non mi trovo più, non mi trovo più, eccomi qua ok signori, ok signori, non sono l'impostore e questo già è tanta roba controlliamo la mappa e iniziamo a fare un po' di task così, tanto per mettere in difficoltà le persone stiamo sempre attenti, cerchiamo di non rimanere mai troppo soli perché qua è poi un casino ok, distruggiamo tutti gli asteroidi magici, mamma mia, aspetta, aspetta, aspetta e la peppina, oh mio dio, ok ce l'abbiamo quasi fatta, vai vai, non facciamone passare nessuno perfetto, task completato e questo l'abbiamo fatto, siamo tutti quanti molto contenti ora andiamo nella stanza dell'O2, cioè dell'ossigeno da qualche parte, dovrebbe essere qui cosa è successo qua dentro? Ok abbiamo delle foglie, questa non l'avevo mai fatta, che devo fare? ah, devo buttare le foglie qua dentro, molto interessante, non lo sapevo ok, abbiamo liberato anche questa ventola e c'è questo che mi sta seguendo un po' troppo secondo me non vorrei dirlo ragazzi, ma questo mi inquieta, cioè ve lo dico, mi inquieta tantissimo mi inquieta moltissimo questo OMG qualcosa qua, ONG, ONG tutto a posto? qua, no e attenzione, è stato trovato un morto babaua, come cacchio si chiama e gas son morti allora, hi, who, anzi, chi chiama, dove l'avete trovato il morto? vediamo un po' dove hanno trovato il morto ragazzi e qua, intanto chi è che ha fatto la richiesta? Lila, ok Lila allora stava lì quando ha visto andare, bla bla bla, I saw it, eccetera eccetera c'è uno che si chiama admin, fatemi capire e quindi chi è? Secondo me non è stato cacciato nessuno, cioè infatti nessuno è stato votato cioè, vabbè, ha trovato un morto, ma niente, non ha saputo informazioni più utili purtroppo e va bene, allora andiamo a fare il task nello storage quindi andiamo nel magazzino vediamo un attimino di fare cose buone, signori allora, attenzione, qua c'è Cavani eh, Caffi, Caffi e Cavani Caffi lo vedo strano, signori Caffi lo vedo molto strano iniziamo a mettere sta roba qua uniamo i fili, perché giustamente qua si rompe tutto ragazzi ok, task completata controlliamo, abbiamo un'altra task da completare nella stanza dei pannelli elettrici che dovrebbe essere da questa parte andiamo subito qua eh, vedo qualcosa di strano eh ragazzi, è tutto molto molto bislacco, eh ve lo dico intanto aggiustiamo questo che emergenza, che cacchio è successo mo? ok, diteci, diteci tutto allora, Caffi dice perché, perché intanto Mustafari chiesto all'emergenza white blue white blue cioè, dovrebbe essere my name? no, in teoria lui dice che era con il rosso no, mi ha seguito da tutte le parti dice il rosso ma scusami eh, infatti, che vuol dire white blue? name, cioè, diteci il nome che non si capisce un cacchio sono indicazioni molto alla cacchio di cane sinceramente cioè, non si capisce, raga cioè, white blue che ha fatto? dimmi che ha fatto se non mi spieghi cioè, bisogna essere chiari quando bisogna denunciare qualcuno altrimenti, cioè, non ha senso cioè, seguitemi perché tu devi spiegarmi che cacchio è successo intanto andiamo da giusto qua perché c'è qualcosa di rottissimo ecco qua quindi, aggiustiamo un attimo i figli io ormai sono elettricista dell'astronave, raga io vado aggiustando figli da tutte le parti ok, stanza elettrica pure in mezza sfasciata andiamo nella stanza della sicurezza dai nella security room allora qua c'è Homeless e, lo vedo brutto non voglio dove è andato Homeless? ok, sta lì perfetto attenzione stiamo tutti molto calmi stiamo tutti molto calmi porca zoza e, con calma ah, Homeless sta controllando le telecamere forse vediamo un po' io non posso controllare perché le sta controllando lui lui sta qua e va bene Caffi sta qua raga, qua dobbiamo giocare molto d'astuzia cioè, dobbiamo cercare di restare vicini a tutti in modo che l'assassino l'impostore quello che cacchio sia non ci possa saccagnare male di mazzate questa è la verità vediamo un po' e, qua c'è Mustafa che sta qua lui sta facendo perché non ha fatto il task? attenzione attenzione e, facciamo cose brutte e, che mo' oddio il blu aspetta dove l'avevo visto il blu dove l'avevo visto? allora, chi è che ha richiesto? Caffi Caffi vai, dici yellow why perché yellow why yellow spiegaci explain dici qualcosa allora, come lo sai? l'ho visto ok se l'ha visto ragazzi che cosa ha detto? chi era? è il giallo è il giallo ragazzi, è il giallo l'hanno visto mi hanno detto che l'hanno visto fare qualcosa di strano quindi votiamo tutto il giallo vediamo un po' sarà il giallo l'impostore? riusciremo a sopravvivere in questa astronave contaminata di schifi assassini e roba del genere chi lo sa? Cavani sei tu? Cavani sei tu l'impostore? è Cavani? eh signori è Cavani grande ottimo GG questa mi è piaciuta Cavani ti sei fatto beccare malissimo ti sei fatto beccare molto molto male bravo bravo complimenti complimenti bene facciamo un'altra partita ragazzi voglio fare l'impostore anche perché non ho ancora imparato bene come si fa l'impostore porca zozzeria incredibile ok signori siamo partiti in una nuova avventura allora sto seguendo ONG qua c'è anche Baba U qualcosa e qua c'è anche Luca qualcosa al no Lube non so chi cacchio sia Lucas esatto io cerco di rimanere sempre vicino un po' a tutti in modo che insomma non mi possano seccare male eh fatemi allontanare un attimino di qua andiamo un attimino di qua così dove è qualcosa da aggiustare c'era qualcosa da aggiustare mi sono perso tantissimo come una muffetta pazza dovrebbe essere qui qualcosa da aggiustare giusto no ho sbagliato stanza no sto bene nella stanza comunicazione dove ah eccola qua ok aggiustiamo la stanza comunicazione iniziamo a scaricare i driver evidentemente mettiamoli sul nostro tablet ok attenzione il giallo è morto eh vedi 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 come succede chi ha richiesto Mustafa Mustafa ha richiesto vai dici Mustafa dici cos'è successo intanto Lucas se n'è andato ciao 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 a tutti ciao ciao che cosa hai visto Mustafa Mustapippo oh ma non ci stanno dettagli cioè details niente se ti si scrive details vabbè io schifo andate a quel paese raga avete rotto le balle cioè ma che cacchio cioè Mustafa hanno segnalato tutti Mustafa avete fatto bene perché non ha scritto un cacchio cioè non è che puoi chiamare così una riunione nessuno è stato buttato fuori perché vabbè un impostore è rimasto è ok cioè non capisco quando chiamano quando fanno ste riunioni e poi non dicono un cacchio cioè ti fanno solamente perde un botto di tempo intanto fatemi controllare nella stanza admin io devo andare cioè qui attenzione che qua c'è FBC qualcosa qua c'è ONG che mi sta inseguendo tantissimo io mi allontano molto troppo veloce accettato ok allora avrebbe potuto ammazzarmi tranquillamente ma non l'ha fatto quindi penso che mi possa fidare di ONG sono stato da solo con lui quindi poteva tranquillamente saccagnarmi male secondo me ONG non è lui l'assassino l'impostore o quello che cacchio sia vedo vedo Mustafa lì raga a me Mustafa non è che me la conti proprio proprio tanto giusta devo dirvi la verità non so perché ho un'impressione che ho però Mustafa mi inquieta moltissimo mo per esempio dove sta Mustafa io non l'ho visto passare di qua scusatemi io non l'ho visto passare di qua Mustafa e dove sta poteva andare da qualche parte ah si poteva scendere qua ok niente scusami Mustafa infatti stavo già per andare a denunciare malissimo ok controlliamo le task da fare io sono qua dovrei arrangare ok qua dovrei avere qualcosa da fare eccomi qua signori cosa devo fare che cosa ah devo allineare questi ok perfetto allineato perfetto task effettuato perfettamente signori ora devo andare nell'app engine eeeh mamma mia eeeh mamma mia signori attenzione è morto qualcuno allora kafi kafi vediamo un po' kafi che ci dice vai vai kafi dici dici kafi dici upper engine ok cosa hai visto what you spero devo aver scritto bene il mio inglese è arrugginitissimo cosa cosa hai visto vota il rosso vota il rosso light green was near there vabbè questi dicono di votare ma il rosso so io ma sei scemo ma io non ho fatto un cacchio ma perché mi votate a me razza di deficienti ma è ovvio che non ero l'impostore no siete proprio rincoglioniti ok allora chi è che ha detto di votare il rosso fatemi capire arushi e allora arushi cioè secondo me arushi raga è l'impostore dove sta arushi cioè in un modo velocissimo porca miseria allora andiamo nella stanza admin subito cioè li faccio proprio tutti io non me ne può fregare meno guarda velocissimo upload anche qua ho detto upload pure qua per favore bravo vai l'impostore stavolta mi vendico raga perché non è giusto che tu mi accusi così a gratis quindi devo assolutamente vendicarmi ok questa l'abbiamo fatta andiamo nella stanza elettrica che dovrebbe essere più o meno qua da qualche parte qua giù c'è qualcosa da fare sì storage elettrico bla 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 qua c'è un morto signori attenzione cosa devo tirare su questo qua questo qua è l'unico ok e hanno trovato un morto eh lo so che l'avete trovato ragazzi l'ho visto anche io stavo là mo dite che era il rosso un'altra volta rincoglioniti bravi perché hai accusato il rosso perché perché io per giustizia non scrivo più nulla qua dice io penso che è il lime mmm non lo so raga non lo so non mi ricordo manco chi è che mi accusa arushi secondo me è arushi cioè ma chi cacchio ti aveva mai visto arushi vediamo se mi vendi con i miei amici non gliene frega un cacchio di vendicarmi votano mustafa così senza apparenti motivi eh signore la mustafa e allora scusa marushi ma che cosa ti sei fumato perché hai votato me mustafa quindi abbiamo vinto comunque facciamone un'altra ragazzi speriamo di essere l'impostore stavolta perché voglio dire io mi diverto a fare l'impostore l'ho fatto due volte ma non so come cacchio funziona gg gg un paio di palle però non mi avete buttato fuori a me brutti bastardi maledetti intanto continuo a gironzolare intorno uno di voi morirà malissimo ok voglio fare il mago signore attenzione no mago così così che cosa cosa mi posso non lo so zitti tutti non ci allarmiamo non ci allarmiamo porca zozza oh buongiorno non sono l'impostore un'altra volta che due palle porca zozza andiamo a farci le tasche velocemente andiamo qua con molta calma eh che cacchio why cosa cosa why perché mo abbiamo iniziato arushi ma che cacchio vuol dire chi è l'indiano senti arushi hai rotto le palle dove sta arushi io ti voto va a quel paese cioè non è che si può giocare così questo si sveglia la mattina e vota la gente a casa ragazzo ciao bello cioè hai rotto le palle cioè non è possibile boh non lo so questi qui si chiamano la gente per dio no sai il volo divina cosa avete visto che c'è un bellissimo sole cioè ma sei l'incoglionito cioè boh non lo so io fatemi scaricare sta roba io mi stavo a fare i miei task bello tranquillo e questo chiama la riunione le cose assurde ragazzi le cose assurde di questo gioco allora c'è un pulsantino c'è una freccia gialla che mi porta molto selvaggiamente in questo punto qua quindi noi andiamo qua andiamo ad aggiustare questa roba qua eh che cacchio è successo hanno devastato la stanza dell'ossigeno non vi preoccupate che io sto vicino ci penso io aspettate un attimo aspettate un attimo eccomi qua eccomi qua ci penso io 6868368683 vai questa è fatta ok a posto ok mo che è successo allora qua ci abbiamo si e babà o qualcosa siamo tutti vicini non ci allarmiamo andiamo nella stanza storage mi raccomando non fate cose brutte ragazzi che vi sto osservando tantissimo stanza storage ok aggiustiamo i fili e ho visto il verde c'è gente che mi si sta avvicinando tantissimo questo sta aggiustando qua non è vero non ha aggiustato un cacchio aggiusto i fili eh hanno trovato un morto raga in caffetteria fai che cosa è successo vediamo un po' allora si si ha trovato where ok vediamo un po' di leggere ok insecurity mmm insecurity io dov'ero rot che cos'è vuoi I know I don't know ragazzi non lo so chi era in security quindi io schippo chi cacchio devo votare non abbiamo idea c'è qualcuno che perché voti me ma chi sei ma chi ti conosce perché mi vota questo ok si è stato sbattuto fuori vabbè cioè qua praticamente pure se dici che hai visto qualcosa ti sbattono fuori però bravi perché ho dai le informazioni giuste o o non lo so insomma clicchiamo qua stavo aggiustando questo io prima giustamente quindi facciamo così così e così perfetto controlliamo un attimino abbiamo un altro guaio nella caffetteria qua quindi risaliamo qua su eccoci qua ok rosso blu giallo attenzione task completato ma la luce è andata a farsi benedire perché il reattore forse è andato si è rotto il reattore che cosa sta succedendo allora andiamo qua come cacchio ci arrivo io laggiù hanno aggiustato hanno aggiustato hanno aggiustato tantissimo questo è il reattore giusto ma qua non c'è un cacchio da fare dove sono i task ah no il reattore sta qui ok devo fare delle cose qua devo aggiustare questo attenzione homeless sto vicino alla telecamera rompermi le balle allora aggiustiamo questo ok perfetto va bene era così eh eh lo sape io ma me lo sentivo tantissimo sei un piccolo bastardo continuerò a fare i task non ti preoccupare proprio porca zozzeria assurda cioè avete capito raga com'è la cattiveria assurda di questa persona cioè roba veramente brutta ecco intanto guarda ti frego perché tanto te li faccio tutti i task non me ne può fregare meno sono fantasma in modalità fantasma sono velocissimo faccio tutto io che devo fare qua uno due tre quattro c uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ok non l'avevo mai fatto sto task quindi non avevo idea tutto quanto perfetto ora che cosa posso fare io in qualità di fantasma un cacchio è lui signori è lui è homeless ma porca zozza hanno trovato un corpo chi mo vediamo un po' guardalo guardalo guarda come fai il doppio gioco dice di aver trovato un corpo dice di aver trovato un corpo cioè ha richiesto lui il il meeting qua guarda guardalo guardalo come gio guardalo come imbroglia questo tipo però sei bravissimo questo dice il bravo ma perché bravo ma perché dite i nomi alla cacchio proprio babau ascoltate babau porca zozza che ha ragione è homeless chissà se indovineranno non viene cacciato nessuno però ci sono sospetti su homeless ragazzi ci sono dei forti sospetti vabbè continuiamo a cercare dei task task non ce li ho non c'ho un cacchio non posso fare un cacchio io da fantasma non posso attivare dei task no niente non ho poteri in qualità di fantasma che posso fare non posso fare niente e vabbè mo chi è perché si ma mo perché fammi capire questa mo la devo capire chi è che ha richiesto questo meeting babau votate il blu eh ma perché devi dare una spiegazione babau quello dice brown no sì ma nessuno chiede un calm non l'ho capita io sta votazione perché il blu perché dovete avere delle motivazioni porca zozza ma che si può votare così io devo capire se posso aiutarli in qualche modo come fantasma che posso fare comunicazione ok qualcuno sta facendo cose non so cosa ma stanno facendo cose ok vedo che i task stanno procedendo non so perché visto che non sto facendo un cacchio dov'è quel tipo assassino dov'è homeless che non lo trovo più questo qua sta a fare lo scanner perché cosa che serve sto cosa io non mi ho capito attenzione signori abbiamo vinto non ho capito perché abbiamo vinto penso perché abbiamo finito i task mi piace questa cosa mi piace ci sta ci sta vediamo se riusciamo a essere l'impostore almeno una volta che cacchio ok signori si inizia un'altra partita sono l'impostore c'è un impostore tra di noi chi è? che palle raga non so mai l'impostore ma non ci voglio credere andiamo nella stanza dell'ossigeno qua allora qua c'è Mustafa c'è altra gente io aggiusto un attimino questa non mi seccate male subito perché mi incazzo come una faina vai via perfetto questa l'abbiamo fatta subito poi abbiamo nell'admin stanza admin signori quindi andiamo qua scendiamo così ho visto il blu c'è un blu che mi sta inseguendo molto velocemente e porca zoo dai t'ha visto t'ha visto tantissimo l'hai visto che è il verde l'hai visto per forza devi averlo visto per forza ma per forza proprio l'hai visto che era il verde scrivilo che era il verde ma perché non scrivono sti deficienti vuoi scrivere ma quale black di tua sorella è il verde cioè ma stava lì vicino a me com'è fatto a non vederlo fammi capire come cacchio hai fatto a non vederlo e niente ragazzi siamo di nuovo dei fantasmini allegri l'unica cosa che possiamo fare è aiutare la nostra squadra cioè non posso fare altro fondamentalmente qui andiamo nella stanza andiamo nell'elettricità qui allora attenzione ci penso io non vi preoccupate non vi preoccupate mai non vi preoccupate mai arrivo io arrivo io posso aggiustare sta roba no questa non la posso aggiustare cioè non posso intervenire su queste cose posso solamente fare i taschi vabbè mi sembra anche giusto perché per camisera poi sarebbe veramente troppo vantaggioso per noi fantasmi che possiamo aggiustare tutto allora usiamo questo e va bene usiamo quest'altro e va bene anche questo sto completando tutti i task molto velocemente ragazzi perché cioè mi girano le balle quello sta vicino a me quell'altro ciecato cioè dico io ma come cacchio è fatto a non vedere cioè non lo so proprio scarichiamo pure qua ok hanno richiesto un'altra un'altra riunione hanno richiesto un'altra riunione la chiesta homeless e dice pensa che è il rosa ma perché è il rosa ma in base a cosa raga ma non sapete giocare ma in base a cosa pensi che è il viola fammi capire cioè il rosa quello che cacchio sia infatti non è l'impostore è ovvio ok andiamo a fare degli altri task raga che vi devo dire aggiustiamo qua ok molto molto velocemente andiamo nella stanza admin signori che dovrebbe essere più o meno da qualche parte qua cosa sto inseguendo questo non posso fare un cacchio io dove è la stanza admin andiamo qua facciamo così prendiamo la scheda e passiamola in modo molto perfetto cos'altro c'è rimasto da fare un cacchio un cacchio di niente signori qua stanno sabotando tutto dai volete capire che era il verde non mi ricordo manco più chi cacchio era intanto io esco dall'astronave porca zozza ok va bene allora eh signori ha vinto cioè ha vinto tranquillamente vabbè ragazzuoli io direi che per questa partita ci possiamo fermare qua come al solito spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like spolliciate condividete se il video che è il canale sui vostri social se non l'avete ancora fatto vi fa piacere iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina per questo episodio di Among Us è tutto io vi do appuntamento sul canale per un prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti Grazie per la visione!